Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi voglio presentarvi i filati che l'azienda Lanne di Biella Cofil mi ha gentilmente inviato per fare la recensione. L'azienda Lanne di Biella Cofil è un'azienda italiana che si trova in Mongrando in provincia di Biella e vende filati italiani che sono prodotti da aziende italiane situate sul territorio biellese che come sapete è famoso in tutto il mondo proprio per la produzione di filati di pregio. L'azienda è a conduzione familiare ed è leader nel settore da circa 40 anni. L'acquisto dei filati si può fare sia personalmente recandosi presso la loro azienda oppure acquistando online. In catalogo c'è un vastissimo assortimento di filati di lana, di cotone, di moera, misto lana, misto cotone, acrilico. Potete trovarli in gomito, in matasse, in rocche. Insomma c'è veramente una vastissima scelta. C'è solo l'imbarazzo della scelta. La navigazione online, sul catalogo online, è veramente molto intuitiva perché i filati sono suddivisi per categorie. Quindi è sufficiente scegliere la categoria, la tipologia di filato che si vuole acquistare e si aprirà veramente un mondo di filati, un mondo di colori. Se voi volete un filato in pura lana, scegliete dalla categoria pura lana, cliccate e veramente compare la tendina con tutti i tipi di filati in pura lana che sono veramente tanti, tanti e sono filati veramente stupendi. Il pagamento, l'azienda accetta qualsiasi tipo di pagamento, Paypal, Postepay, accetta anche il contrassegno quindi per questo non ci sono problemi. E nel caso voi aveste delle difficoltà con i pagamenti o voleste delle informazioni aggiuntive, vi ricordo che c'è un servizio clienti che è sempre a disposizione e che è veramente molto molto gentile, molto competente, quindi vi potrà aiutare per qualsiasi problematica che potrebbe presentarsi. In descrizione io vi lascio uno sconto della 10% che dovrete inserire al momento dell'acquisto per poter usufruire così dello sconto appunto del 10% su tutti i prodotti presenti in catalogo, anche quelli già scontati. Il codice sconto è Nico, voi lo inserite nella finestrella, nello spazio dove c'è scritto codice promozionale, in questo modo voi avete insomma uno sconto del 10%. Io voglio ringraziare l'azienda Alane di Biella Cofila per il gentile pensiero che ha avuto inviandomi tutti questi filati e mi ha dato veramente la possibilità di scegliere tutto quello che volevo dal loro catalogo e poi li voglio anche ringraziare per il pensiero che ha avuto per voi offrendovi appunto uno sconto del 10%. Adesso vi illustro i filati che ho scelto. Allora il filato, il primo filato che ho scelto è stato questo, un misto lana ML 695. Sono rimasta affascinata dai colori, ecco adesso sposto un po' questi, sono rimasta veramente affascinata dai colori di questo gomitolo perché sono, guardate, guardate che belli, sono una cosa eccezionale. Ho già in mente un bel progetto da realizzare con questo, con questo gomitolone e sono sicura che avrà un progetto veramente unico. Allora il gomitolo è composto dal 60% di lana e dal 40% di acrilico. Il gomitolo è da 100 grammi e 100 grammi sviluppa 180 metri. Il costo è di 3,60 euro a gomitolo. È veramente molto morbido, il filato è spesso perché guardate che bello spessore che ha, quindi si lavora con un uncinetto 6 o 7. Poi ecco le indicazioni che vi do io e che anche sono riportate sulla fascetta sono appunto indicative perché poi sapete che ci sono molte variabili come la tensione del filo, il punto che avete scelto, insomma, le indicazioni sul numero di uncinetto dei ferri prendetele solamente come, proprio come indicazioni. Un altro filato che ho scelto che mi è piaciuto veramente tanto è questo, è il filato soffio. È sempre filato italiano prodotto dalla manifattura Rosis di Biella ed è un filato morbidissimo. È un piacere accarezzarlo veramente perché sembra di accarezzare la seta. È composto dal 55% di lana e dal 45% di fibra acrilica. Il gomitolo è da 50 grammi, 50 grammi sviluppa 100 metri. Il capo realizzato con questo filato si può lavare in acqua a 30 gradi. È disponibile in 13 colori, io ho scelto questa tonalità grigio perla e il gomitolo costa 2 euro. Ho scelto poi un altro filato che mi ha veramente incuriosito perché non lo so io sono molto istintiva nella scelta dei filati e devo dire che questa volta qui l'azienda lana di Biella cofila veramente esagerato. I filati sono tutti belli, tutti preziosi, ma questo è una cosa eccezionale. È di una morbidezza incredibile. Io ho appena aperto il mio pacco, ho infilato subito il dito all'interno proprio nel cuore del gomitolo ed ho provato veramente una sensazione di piacere unica. È un gomitolo super super morbido, infatti è super kid mohair. Cioè già il filato è tutto uno spettacolo, la dice, parla da solo il filato. Allora il filato si presenta nel gomitolo da 40 grammi e 40 grammi sviluppa a 360 metri. È disponibile in 47 colori, quindi c'è una scelta veramente incredibile ed è composto dall'80% di kid mohair e dal 20% di poliamide. Io ho scelto diverse varianti di colore, ho scelto il colore 21 che è questo rosa confetto, poi ho scelto questo bordeaux scuro che è il colore 63, ho scelto questo colore albicocca che è il numero 25, il colore 25 e poi ho scelto questo colore, non so se definirlo rosa antico, un beige, insomma un colore molto particolare che è il colore 76. È veramente molto bello questa colorazione qui. Allora questo filato è indicato per realizzare dei capi veramente preziosi, non si scappa perché è un filato molto di pregio e poi è venduto a un prezzo veramente molto competitivo perché 2,80€ per un filato con una resa così alta ed un filato così di pregio, insomma difficilmente lo si trova in commercio. Io ho intenzione di realizzare, adesso vabbè sono ancora nella fase progettuale, poi vedremo magari in corso d'opera cambierò idea come mio solito, però ecco io questo filato lo vedo molto molto bene per la realizzazione di uno scialle soffice, morbido, prezioso. Mi piacerebbe realizzare uno scialle tutto con i fiori utilizzando esclusivamente questo filato senza abbinarlo a un altro filato perché questo filato è perfetto anche da abbinare ad altri filati. Guardate che spettacolo, vedete, fatto un abbinamento del genere, il risultato è un capo super morbido con questo filo leggermente pelosetto che conferisce unicità e un tocco di classe anche al capo, al punto più banale. Questo filato qui consigliano di lavorarlo con i ferri due due e mezzo ma non fate lo sbaglio di utilizzare i ferri o l'uncinetto troppo sottili perché molte volte si dice il filato è sottile lo lavoro con un uncinetto non so del numero uno no perché questo questo filato è proprio creato apposta per dare morbidezza e rendere molto soffice il capo. Quindi utilizzate un uncinetto certo adeguato ma che non sia troppo piccolo proprio per creare l'effetto nuvola. Io definisco l'effetto nuvola quando il capo è veramente soffice e morbido. Lo vedo questo filato io lo vedo anche perfetto per realizzare un bellissimo coprispalle per una cerimonia per una sposa se voi prendete questo filato color a panna bianco beige potete proprio realizzare un coprispalle molto molto elegante. Poi ho un altro filato che voglio presentarvi che ho scelto questo filato l'avevo già presentato in un'altra recensione ma l'ho ripreso perché è un filato eccezionale mi piace mi sono innamorata di questo filato perché è veramente molto molto morbido. È lana merino irrestringibile al 100% anche questo è un filato made in italy prodotto dalla manifattura filati roses di Biella quindi mi ripeto filato italiano. Si presenta nel gomitolo da 50 grammi e in 50 grammi ci sono 87 metri circa. È consigliato l'utilizzo dei ferri 4,5-5 anche come uncinetto io con la tensione che do al filato io lavoro con un 5,5-6 ecco vi ripeto le indicazioni dell'uncinetto circa la misura dell'uncinetto dei ferri prendetele proprio come indicative. Il filato è veramente morbido e i capi realizzati con questo filato si devono lavare a mano. Questo filato io lo consiglio anche per la realizzazione di capi per bambini data la sua morbidezza e il fatto che non sia peloso perché sapete che i bimbi magari hanno la tendenza di mettere in bocca la manica del golfino o magari i peletti possono dar fastidio possono andare nel nasino e dar fastidio. Questo filato è pettinato quindi non ci sono non ci sono peletti ed è veramente indicato anche per i bimbi. È disponibile in 39 colori quindi una scelta vastissima e il gomitolo costa 3 euro quindi un prezzo un rapporto qualità prezzo veramente eccezionale. L'ultimo filato che voglio presentarvi è il filato cablet. Ho scelto questa variante di colore che è un color corallo perché mi è piaciuto tantissimo. Ho voglia quest'anno non lo so voglia di colore io vado un po' un po' così ci sono dei periodi che non so realizzo tutti i capi magari rosa periodi che voglio tutte le tonalità chiarissime del sottobosco quindi beige verde salvia quest'anno quest'autunno ho voglia di colore infatti si vede dalle dalle tonalità di colore che ho scelto. Il cablet è una lana 100% merino irrestringibile made in Italy anche questo prodotto dalla manifattura Rosis di Biella ed è un filato che non ha bisogno di presentazioni perché è un filato morbidissimo. Il gomitolo è da 50 grammi e in 50 grammi si sviluppano 116 metri. È consigliato l'utilizzo dei ferri 3,5-4. È un filato anche questo veramente morbido un filato pettinato quindi non ci sono vedete non ci sono peletti e potete utilizzarlo tranquillamente anche questo per la realizzazione di capi per bambini. Facciamo una comparazione con l'altro filato vedete allora questo filato è leggermente più spesso quindi se volete un capo più strutturato anche per bimbi io vi consiglio il royal se invece volete un capo più delicato più sottile io vi consiglio il cablet perché è leggermente più vedete più sottile rispetto proviamo con questo colore qui che forse si nota di più ecco vedete è leggermente più sottile è disponibile in catalogo in 45 colori scusate ho ortato la videocamera è disponibile in 45 colori e costa 3 euro a gomitolo quindi sviluppa vediamo un po' 116 metri mentre royal ne sviluppa 87 morbido morbidissimo fidatevi è veramente un filato eccezionale. Io vi ho presentato tutti i filati che mi sono fatti inviare dall'azienda l'anne di Biella Cofil ero molto indecisa sui filati perché sono tutti meravigliosi non sapevo quale quale scegliere e allora sono andata un po' di pancia come si dice no e devo dire che sono veramente molto contenta perché sono filati eccezionali filati che non mi stancherei mai di lavorare. Ringrazio l'anne di Biella Cofil per il gentile pensiero per avermi dato soprattutto l'opportunità di scegliere tutti i filati che volevo. Li ringrazio per il codice sconto che hanno pensato di offrire, di offrire alle persone che seguono il mio canale, di offrire a voi quindi e vi do appuntamento ai prossimi video tutorial che saranno realizzati con i filati dell'azienda l'anne di Biella Cofila. Mi raccomando scrivetemi nei commenti perché sono curiosa di saperlo se avete già usato questi filati come vi trovate cosa ne pensate se se volete dei consigli sono a vostra disposizione così almeno manteniamo anche un contatto seppur soltanto attraverso messaggi però magari impariamo a conoscerci un po' a capire anche un po' i nostri gusti le nostre preferenze in fatto di filati. Vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video tutorial. Ciao! Ciao!